giornata più fresca rispetto alle giornate passate quindi è un buon risveglio quello di questa mattina vedremo che cosa accadrà qui a fano alla fiera di san bartolomeo che dovrà vedersela con il maltempo speriamo che poi ritorni il sereno e stamattina cominciamo subito con la rassegna stampa a partire però dal santo del giorno e dal meteo il santo del giorno e san bartolomeo apostolo san bartolomeo è un apostolo che viene menzionato più volte nei vangeli è quella figura se ve la ricordate che nel giudizio universale di michelangelo viene raffigurato con una pelle in mano e tra le rughe di questa pelle si riconosce il volto di michelangelo stesso ha compiuto una vita da missionario dopo la missione che gesù ha dato agli apostoli di predicare a tutto il mondo è stato in mesopotamia e qui è stato martirizzato dal re dei medi che lo ha appunto scorticato vivo beh ma lasciamo quest'immagine truccolenta e passiamo al meteo vediamo che anche oggi continueranno i rovesci sulla nostra località e la temperatura è calata ma nei prossimi giorni tornerà il bel tempo ed ora veniamo alla rassegna stampa a partire dalle prime pagine del resto del carlino e del corriere adriatico vediamo subito la prima pagina del resto del carlino dove la fotografia la fotonotizia in grande è dedicata alle vaccinazioni c'è una testimonianza di una giovane mamma che è stata ricoverata in sub intensiva me la sono vista brutta dichiarato questa signora vaccinatevi non fate come me perché la signora non si era vaccinata e appunto ha avuto il covid e poi vediamo le visite importanti di cui pesaro è stata oggetto in questi giorni sia da parte del presidente mattarella sia da parte del ministro speranza la sfida di speranza e contestatori in titolo il resto del carlino il ministro accolto tra urla e fischi però dice avanti con l'immunizzazione e sia la terza dose e green pass da estendere quindi il ministro è determinato andare avanti con la sua politica e poi vediamo invece i retroscena del roff mariotti il ex lui colui che l'ha inventato il roff mattarella mi ha emozionato roff avanti così mentre juan diego florez serata indimenticabile grazie a tutti e il tenore peruviano è stato però è stato un po il leader di questa manifestazione e poi la cronaca il rompe in casa alle 7 del mattino vediamo un attimo di metallo meglio il giornale ecco il rompe in casa alle 7 del mattino e la aggredisce ed è stato arrestato e poi la droga per il weekend era negli slip e preso uno spacciatore e ancora nuovo ospedale perché insistere su muraglia è una presa di posizione questa che evidenzia il comitato appunto contro l'ospedale di muraglia torna la pioggia danni e paura nell'entroterra e poi per quanto riguarda lo sport vediamo che la vispesaro regala biglietti ai ragazzi che fanno il siero mentre per la vl il basket delfino fa scuola ai due brasiliani paceco sotto la mia ala il corriere adriatico invece riassume le notizie a partire dall'obbligo vaccinale eccolo vediamolo così obbligo vaccinale siamo pronti l'assessore saltamartini valuta l'ipotesi ventilata dal governo per gli over 40 via ad una morassision telefonica le altre indicazioni spingere sui camper e avanti con il bando per i 500 mila tamponi salivari destinati alle scuole tra pochi giorni comincia l'anno scolastico ormai le vacanze sono al così sono al lumicino stanno declinando e tutto è in moto per preparare il nuovo anno e poi ancora le tre notizie a centropagina vediamo prima le avanze poi la aggredisce mentre va al lavoro e a pesaro sempre a pesaro vanno in vacanza i ladri svaliggiano l'appartamento a fano il feritore del parco delle rose agli arresti in casa ma il nodo resta dove scontarli claudi aiuta i bimbi afghani sei l'orgoglio delle marche un articolo di andrea taffi di spalla sulla prima pagina del corriere e a fondo pagina abbiamo ancora il roff in futuro solo in centro tra palas rossini e pedrotti cominciamo dal resto del carlino apriamo il giornale e vediamo subito la testimonianza di questa signora si chiama palumbescia amiti a 31 anni viene raffigurata nel suo letto d'ospedale non mi sono vaccinata dice e mi ritrovo qui adesso non vedo l'ora di farlo anch'io palumbella amiti di 31 anni giovane mamma di origine macedone residente a urbania è ricoverata in terapia semi intensiva sotto ossigeno sto meglio dice ma me la sono vista brutta invito tutti a sottoporsi alla somministrazione è una cosa che ti salva la vita afferma e vediamo anche un po il consuntivo che viene riportata in questa mascherina celestina di spalla ricoveri in aumento più tre in intensiva sono in aumento nelle marche ricoveri per covid 19 che salgono a 57 più 2 e più 3 in terapia intensiva 13 di cui 5 a pesaro 2 meno 2 in semi intensiva 6 di cui 5 a pesaro più uno nei reparti non intensivi 38 di cui 6 a pesaro i positivi sono 34 con una incidenza di 69 virgola 40 su 100 mila abitanti per fortuna non si registrano vittime e ora vediamo la visita di speranza speranza a settembre l'ottanta per cento dei vaccinati ha dichiarato ieri presentandosi all'anteprima della festa dell'unità a piazzale collenuccio il titolare del dicastero della salute dice la terza dose si farà cominciando dai soggetti più fragili e a novembre sarà possibile immunizzare anche i bambini estendere il green pass il più possibile anche agli altri ambiti con l'idea che è quasi una certezza di arrivare all'ottanta per cento di immunizzati entro il mese di settembre questa è la politica portata avanti dal ministro della sanità il ministro però è stato accolto da una decina di contestatori urla e fischi all'inaugurazione della farmacia comunale di pesaro in via giolitti c'erano i sostenitori delle terapie domiciliari e l'associazione io apro guidata da umberto carriera tant'è che il ministro dopo l'inaugurazione è uscito da una porta secondaria per non incontrare di nuovo i contestatori ci sono stati dunque momenti di tensione all'arrivo di speranza poi il taglio del nastro della comunale giriamo pagina e vediamo le due pagine del carlino dedicate al roff abbiamo la dichiarazione di mariotti in testata mariotti mattarella mi ha emozionato il futuro del roff sulla strada già tracciata il padre del festival a tutto campo dopo il concerto in piazza la mia creatura in buona salute ha detto premiato il lavoro di palaccio il direttore artistico e poi il retroscena il dopo festival dopo festival dal sapore mondano villa pierangeli tutti in festa per il dopo gala juan diego flores concerto indimenticabile e il tradizionale appuntamento sul san bartolo in chiusura del festival tanti gli ospiti tra cui gianni letta la senatrice segre e roberto burioni e qui vediamo un po di fotografie di questa serata mondana qui paola pierangeli titarelli padrona di casa con flores ed una maxi padella non so se sarà di 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 fritto di di brodetto insomma qualcosa di appetitoso e ancora qua daniele vimini vice sindaco con gianni letta presidente della fondazione rossini paola pierangeli ed ernesto palaccio sovraintendente del roff la foto di gruppo dei cantanti protagonisti delle galà rossini e ancora poi il virologo roberto burioni con il con la regista rosetta cucchi e il compagno e poi ancora altre foto con la segre e altri invitati a questa festa nuovo ospedale nuovo ospedale comitati in trincea assurdo insistere su muraglia questo è il fine della lotta il mandato il progetto che intendono che intendono realizzare questi contestatori due associazioni di cittadini spiegano le ragioni del no e spingono verso l'ipotesi di case bruciate l'area vicino al casello dell'autostrada è quella giusta dicono nessun rischio esondazione e migliore viabilità uno studio della regione marche tra l'altro ha confermato che il sito di muraglia è totalmente inadatto alla realizzazione dell'ospedale e soprattutto che esistano alternative migliori al punto dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista economico perché ci sarebbe un risparmio di 30 milioni di euro di soldi pubblici e appunto con case bruciate si risparmia il maltempo ebbe il maltempo lo abbiamo la pioggia almeno l'abbiamo tanto desiderata ma ieri ne è caduta veramente troppa tanto da causare danni nell'entroterra bomba d'acqua allagamenti e frane decine di interventi e danni nell'entroterra a cartoceto la scalinata diventa un fiume la pioggia penetra in garage scantinati blackout di più di un'ora ad acqua lagna e in questa fotografia vediamo addirittura il sindaco rossi che è penetrato scalzo in una grotta invasa dall'acqua e dal fango per un sopralluogo poi vediamo il torrente d'acqua nel centro di cartoceto un albero pericolante a trebbi antico e uno scantinato ad acqua lagna con gli uomini credo della protezione civile o di protezione civile immagino per ripulire il tutto a cartoceto sia stato il cedimento appunto di questa grotta e il cedimento del terreno coca vediamo la cronaca coca negli slip in manette un pusher che è stato sorpreso al casello autostradale la squadra mobile ha arrestato un 28enne di origini marocchine di ritorno dal rifornimento di droga per lo sballo nel weekend e il corriere aveva diviso la sostanza in due involucri da 10 grammi ciascuno che è poi occultato nelle parti intime con questo nuovo arresto abbiamo assestato un altro colpo al traffico della droga spiega il dirigente cognigni droga che continua ad essere una piaga è un pericolo soprattutto per i nostri giovani ma che proprio per questo è sempre la nostra priorità e come un idra nuove teste se ne taglia una ma ricresce subito una altra di supporto e qui c'è il caso di un di una violenza ancora sulle donne il rompe in casa e tenta di violentarla in carcere da ieri un sessantenne di montelabate accusato di stalking tentata violenza sessuale violazione di domicilio e lesioni era infatuato di una trentenne la perseguitava con richiesta di incontri di vicinanze lei l'aveva sempre respinto non l'aveva però denunciato e nella giornata di ieri l'uomo è andato a casa sua ha tentato di abbracciarla in maniera molto molto violenta e lei è riuscita a liberarsi poi fuggita in strada ha chiesto i soccorsi e sono arrivate le forze dell'ordine il sessantenne aveva già infastidito la donna ancora nel sommario ma lei aveva non lo aveva mai denunciato ancora cronaca per quanto riguarda per quanto riguarda la finanza a caccia anche al porto multe a due distributori irregolari due distributori di carburante sanzionati uno a san lorenzo in campo e l'altro a san costanzo un ventenne fanese ritrovato con due grammi di asci se addosso segnalato alla prefettura 108 persone identificate e controllati 59 veicoli tra auto e motocicli occhi puntati anche sui passeggeri sbarcati nel porto di pesaro dal traghetto di linea proveniente dalla croazia e questo il bilancio di un'intensa attività di monitoraggio dei militari della guardia di finanza di pesaro che nella serata di sabato scorso hanno veramente controllato le strade e i punti critici appunto per quanto riguarda l'ordine pubblico e le aree del litorale costiero provinciale da gabice mare a marotta e quindi un'attività intensa e veniamo a fano salvata la tradizione del carnevale sabato e domenica si è svolta la prima fase del carnevale di fano sulla spiaggia sul lungomare di sassonia sabato e domenica prossima la seconda fase in centro storico la presidente dell'ente carnevalesca gian marioli traccia un bilancio positivo del primo weekend a sassonia ora ci si sposta in centro dice è stata una faticata che ha portato però i suoi buoni frutti organizzare questo evento un evento speciale sia per quanto riguarda il covid che per quanto riguarda la stagione con cui è stata organizzata non in inverno ma in piena estate la presidente tira le somme della prima uscita statica dei carri che non hanno potuto sfilare purtroppo buona la prima dice la gian marioli per la quale è stato un grande successo per le due giorni delle carnevale tantissimi turisti ma anche tantissimi fanesi hanno partecipato alla nuova formula della manifestazione che si è rivelata vincente soprattutto a parte se i carri non hanno potuto sfilare quello che ha dettato così la vivacità la festa il brio dell'evento sono state le tante iniziative che sono svolte sulle lungomare di sassonia iniziative che hanno coinvolto sia i bambini che gli adulti e ovviamente gli anziani e poi gli appuntamenti di oggi gli appuntamenti di oggi vitruvio cittadino fanese un libro lo dimostra oggi la rocca malatestiana tutti i dettagli è stata anticipata alle 18 e 30 la presentazione del libro vitruvio a fano per una rilettura della documentazione un libro di serena evelina perruc inizialmente prevista per le ore 21 e 15 sempre alla rocca quindi alle 18 e 30 vediamo ancora si parla di alberi si parla di verde a fano in toni polemici scure in via risorgimento dove c'è in progetto di così realizzare di bonificare quel parcheggio esistente però sette alberi sono a rischio e ovviamente l'abbattimento il presunto abbattimento desta l'allarme della lupus in fabola vogliono sbarassarsi di quattro aceri un olmo e due pioppi l'assessore tonelli dice ma ne pianteremo altri 32 a mondavio zenobi tenta il bis il sindaco uscente si ricandida e al momento è l'unico in lizza molte facce nuove comunque in lista e poi un incidente anzi due incidenti ieri a fano perde un sacco di cipolle provoca un incidente e fugge tamponamento alla rotatoria ovale di sant'orso scontro tra un auto tra le vie lelli e gigli per fortuna non ci sono stati feriti ma la perdita del sacco di cipolle nella rotatoria di sant'orso ha provocato che la macchina che seguiva appunto quella in cui è caduto il sacco di cipolle ha frenato di botto e quella dietro ancora l'ha tamponato e poi autoanasia legale raccolte 1400 firme arriva marco coppato nella pagina di urbino obbligo di green pass anche all'ateneo dal primo settembre al 31 dicembre dipendenti e studenti dovranno essere in possesso della certificazione per accedere ad ambienti e attività ed ora passiamo al corriere adriatico dove abbiamo già letto la prima pagina saltiamo perché ne abbiamo già parlato l'aspetto della sanità ritorniamo al roff anche il corriere dedica due pagine a questo evento il sogno del roff il ritorno della musica in tre sedi rossini palace e pedrotti addirittura tre grandi cornici per un evento di grande prestigio florez cantare rossini e ritrovare me stesso ha dichiarato al ricevimento a casa titarelli anche maria sela federici la regina dei salotti romani obiettivo entro settembre il 70 per cento con la seconda dose anche la responsabile del distretto esposto tra i medici vaccinatori ieri in camper a tavoglia si sono presentati in 46 46 il numero magico per tavoglia era il numero di valentino rossi e nel regno di rossi appunto non poteva essere altrimenti e questo camper gira ormai in tutta la provincia questa sera sarà a fano dalle 18 alle 22 si potrà poter si potrà essere vaccinati senza prenotazione e vediamo che insomma sta ottenendo un una risposta piuttosto importante giriamo pagina e vediamo ancora i problemi del covid medici non vaccinati l'ordine pronto a far partire ulteriori provvedimenti sospensioni domani si riunisce il consiglio per sei professionisti segnalati dall'area vasta sono i sei professionisti che ancora non si sono vaccinati e probabilmente non intendono farlo a parlare in questo caso è paolo maria battestini che è il presidente dell'ordine la famiglia è fuori per le vacanze a riento trova la casa svaleggiata brutta sorpresa in via armada pesaro dove i ladri hanno approfittato dell'assenza per agire indisturbati sono entrati utilizzando una schiuma bianca è un passa passpartout per entrare nell'appartamento e hanno portato via qualche migliaia di euro la finanza sanziona i furbetti dei prezzi della benzina ne abbiamo parlato prima dando un'occhiata al resto del carlino elevate cinque multe nell'ambito delle verifiche nello scorso weekend a urbino la riforma sanitaria mi preoccupa gambini rispetto a qualche e qualche spina paola parla scusate in questo caso lino michelli che fa dal lago della bilancia siamo una lista trasversale ha detto vedremo conquistare in futuro lino michelli il cosiddetto jolly delle ultime amministrative torna dunque a far sentire la sua voce qualcuno in maggioranza così chiesto il giornalista sottolinea sempre ma michelli con chi sta e michelli risponde fino a primavera 2024 con gambini il quale non ha ascoltato i contrari all'alleanza aveva ben individuato lago della bilancia e vede oltre l'orizzonte anche quando c'è nebbia fitta quindi ancora fedele alla maggioranza san gregorio due aree picnic abbandonate i residenti della zona così non si fermerà mai nessuno qui e la zona è a ferminiano veniamo sulla pagina di fano si parla diffusamente del tentato omicidio del parco delle rose e l'accusa è stata derubricata dal giudice messina da tentato omicidio a lesioni gravi l'accoltellatore finisce dunque ai domiciliari ed è stato scarcerato il sudanese aveva aggredito un conquilino e un amico confermata la tesi volevo solo riposare in pace ma adesso il problema è dove sconterà questi arresti domiciliari dato che contestualmente all'accusa è stato notificato anche il divieto di avvicinamento alle sue vittime libri e serate dedicate a vitruvio superstar stasera si svela il volume sul rapporto con fano poi c'è un evento con bravi e corbelli san bartolomeo si parla della fiera ovviamente semaforo green parte oggi la fiera passo obbligatorio controlli a campione e il comune ingaggia il detective degli alberi da abbattere si tratta di andrea cianca merla che ha un mandato conferito dall'amministrazione comunale giriamo ancora la pagina vediamo la valmetauro siamo a cai parliamo del maltempo la bomba d'acqua investe tre comuni garage allagati decine di interventi emergenza a san costanzo fermignano e cagli dove ha preoccupato soprattutto via don minzoni e poi la rabbia di roberta vico a fossombrone prendo le distanze dalla lega la candidata sindaca di cinque anni fa del carroccio contro l'appoggio a berloni per quanto riguarda mondavio siamo sulla pagina della valcesano tari mondavio da un taglio aiuti alle attività e famiglie decurtazioni finalmente le tasse un po in meno decurtazioni al 30 e 60 per cento per le palestre ristoranti alberghi bar e agriturismo un aiuto un sostegno per il rilancio economico e poi a san costanzo vediamo illuminazione il comune investe un milione di euro l'attacco di carbone delibera frettolosa dopo la mia interpellanza insomma da una parte si fa dall'altra si disfa e passiamo ora al allo sport vediamo la vis anzi l'incontro tra vis pistoiese gratis per chi si vaccina ora insomma tante tante facilitazioni per chi si vaccina contro il virus iniziativa della società per i ragazzi dai 12 ai 17 anni ieri momenti di tensione tra gli ultra e pezzi a villa fastigi battene e chiedi scusa gli è stato intimato e poi vediamo ancora gennari lascia pesaro per golese su nava vis oggi l'ex capitano si svincola e va a pistoia de feo doveva andare a limolese per l'attaccante stanco ma la trattativa si è complicata mentre per quanto riguarda fano vediamo che la squadra è già al lavoro sarà un campionato di derby da ieri la squadra nel ritivo di rivisondoli del girone f dovrebbero esserci altre sei marchigiane compresa la san benedettese quindi ogni match ogni ogni partita sarà interessante sarà così susciterà un po l'orgoglio dei tifosi che dovranno sostenere granata anche in questo campionato proprio di cadetti di serie di un campionato comunque da non sottovalutare e questa era l'ultima notizia massimo foghetti vi saluta vi dà appuntamento al notiziario di questa sera alle ore 20 e 30 buona giornata